musica 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 jaman soft è la sindrome del protagonismo oh oh cattivo ah cattivo ma che pavola zio cattino vai zio uccellino no zio cattino zio uccellino zio uccellino zio uccellino zio uccellino zio cattino vai pazzissimo sei pazzo che pallone in merda studio ma che pallone ma che pallone in merda e ma colpo pallone in merda ma di varie una pazza ad essere a con super sun vai capite quali gli esterni zio potremmo 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 su pagone vuole un portiere più fattore no guarda che stondi non ti preoccupare se mi fai cappacolla ma c'è fatto i passaggi come hai visto zecchi passaggi ma... ma mia mia ma rollo ma rollo io mi sparo no io mi sparo sulle gambe ma rollo e Pumpeo ma che fa? oh quanti salti? un circo in campo sono degli acrobatic almeno chi si ci ha già fatto da fuoco il diritto passaggio maronna è scivolato è scivolato è scivolato anche lui è sciogliato chi pulisce più di chandelle? si produce una festa in maschera in maschera immagino una festa mascherata si come dipingue? rovaio non lo so non lo so non lo so quando il gallo fischia trascesse tre voti in te gambe non lo so non lo so non lo so stai facendo un ingerimento strano ma che cazzo ma cosa ma cosa è essere fatto? ma pure pure non lo so non lo so ma cosa è essere fatto? ma pure pure non lo so 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 ma cosa è stato d'alfonso lano non lo so ma che cazzo non lo so non lo so non lo so non lo so ma non lo so non lo so ma io non ho fatto nulla si è appiccicato con l'albero la dottima no come quando non lo so non lo so e se ero tu la palla la 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 non ho guardato l'attività bellissimo che è arrivato, mamma mia che è il sessatore che ha mangiato il testo oh, rigore! no, rigore, rigore dire tu? si non sapevi che era sbagliato ma che cazzo ma che cazzo ma anche il lato che capasco mamma mia si deve essere arrivata con l'aera buono ricordo che è rimasto c'entra ma ok, la gira di un ricordo famo capire, ma è che l'ora di bo, perché questo è il capitale me lo dicevi, te lo dirai tu ho fatto che te l'ho detto te l'ho detto, te l'ho detto io buongiorno ma grazie mamma mia guarda come ho perduto il partito ma devi mettere tutto il caso contro eeeh oh mi sembra un po' la pancia ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo mi sembra un po' la pancia ecco la... ah no, ti mi muozi i toni toni ciccioni toni ciccioni oh ti è piaciuto? chiedo scusa di essere un ciccioni chiedo scusa di essere un ciccioni che fai Paco? stai comazzutato non vuoi soltanto non vuoi soltanto non vuoi soltanto non sta con le braccia allargate riccardo toni abbassa i toni yeah stai giannaci quando stai arrivato? stai arrivato oh oh no la kill yeah ma la ritto pure la pultire ma la ritto pultire ma la ritto pultire scusate 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 ma stanno andando 4 ore ripetisti capo ehi, numero 3 numero 3 che cazzo fa? chi ha tirato? non c'è i brani con x cecchie x e z ma... elen si a dire questa dire buonanotte buonanotte con te buonanotte baby ciaccarelle cazzo mazzita non cazzo mazzita non cazzo mazzita non cazzo mazzita eh scusa la partita hai sbagliato due rigoli uno sbagliato la fila di prima due no mi è messo ah 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 Sì, è sempre un colpa mia per ti Sei dannoso Sei dannoso? E tu la pago? Ma che p***o Ma non è una mia Ma non è stata misturata L'ho visto Oh Dove stanno in età Allora Forne Voi sano che nei No non è andato Ma non è andata Ma non è andata Il nostro Ma non è andato Il termina Il nostro Forse il nostro Il nostro È un caso Ah, sei salvando, di passarlo. Stavo per essere... sono stato egoista nel chiederti di passarlo, ma... No, ma là li aveva passato fuori. Dobbiamo fare i gol della cassa per vincere. Ciao, ciao qua. Canino Thomas, sei gravisce? No, no, no. Non c'è una giattardo, c'è proprio che ha fatto un giatto, quindi ho fatto due. E' doppia, perché? E non ci sono male, ma mi devo fare un giro e un giro che faccio. Sì, e la ripetizione si ricorda per spara qui. Sì, le ripetizioni sono i ricordi per spara qui. Sì, non mi trovo la prima volta. Alla partita di prima aveva fatto 6 gol. Io ne sembra solo quale aveva fatto 6 gol. Sì, solo quale aveva fatto 6 gol. Sì, e si sono diventato 2 due due. dai mago ti faccio sentire l'alizzo al dosio ok la pazzia palla fuori che ci devo fare? è un grosso dai ma io sono scemo guarda che colpe di esse ti faccio guarda che colpe di esse ti faccio guarda che colpe di esse ti faccio è lì pago di lì bravo che grande parla vai pago metti lì bello sesso nudo sesso nudo che fai? ti scusi pago che fai? non lo so ma io ho già fatto più con l'istra che con l'istra ma che fai? lo faccio sempre la giunta che batte c'è una buccia di banana sul campo che ce la scrivo ma cosa? non dico che era la tua buono e buono il sabato ho fatto una gioccolata che era mia nooo oh lo sai l'esempio di Dragon Ball Super come descrivono Wizz quello che sta presso a Lord Beerus che tu lo capiscono qua a Yatt sì sì lo so c'è Dragon Ball Super a Wizz lo descrivono alieno dalla dubbio identità sessuale lo so lo so virus è un uvle non funziona è un uvle duro che cosa? è un uvle duro chi l'ha già un uvle duro? il sesso è una cosa pura è un uvle duro è un uvle duro è un uvle duro vai pazzo nooo vai pazzo vai pazzo vai pazzo è tuo mamma mi paga così muovo sposte di oilalà oilalà guarda che stoppe e io tendi più a stampa ma guarda sti con PCL che PCL di? nostra? no prima salva la palla no ma io le ho proprio la capola è nostra nostra? e io gli spezzo le gamba questo mi spezzo le gadget non me la riva sta ok la prossima no buone buone Vieni vicino, vieni. Ciao, mi sto trovando. Sto correndo. Che schermo di me? Ma hai passo? Ma perché non vado? Senza volerlo, un giro grosso. Attenzione. Attenzione. Ma quando parte? È il 30. Ah, avremo il 30. Ah, quindi è stato solo pago. Ah, no, è stato solo pago. Ma quindi tu parti? Sì, il 30 parte. Dove hai? Eh, in basi di casa. Pazzo. È bella comunque, è partito. Sono andato in vacanza. Eh, in vacanza. Oh, ma mi sono cagato in mare. No, ma mi è parta. Andiamo inizi fino al villaggio. Non ci siamo andati fino ad ora. Ma ora, grazie al Covid, possiamo andare. Ok. Grazie al Covid. No, ma andiamo. No, ma andiamo. Vai, ulti! Vai, va, urra! Paolo e Brozio! Vai, vai! Tu, 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 tu. No! Ho inciso il cocco. Ho inciso il cocco. Ho inciso il cocco. Ho inciso. È inciso. Il cocco è inciso. Il cocco è inciso. È inciso. ok c'è da parli, vai! vai Mario! Sto qua Mario! Mario sto qua! Ah me li passa a te da giù, vabbè buono 3 vittorie consecutive, che è successo? Ma perchè non mi ammenda di totale? Mi è pancato! Facciamo pure una promozione se in gioco la nostra No, facciamo, ma tociamo, vediamo se ci vediamo No, io non ce li ho Ah no, non si piace Se ce la facciamo, forse esci, metti esci Certo, c'è uscito Ah non ce l'hai connessione, eh, io giudiamo Bello il tuo adio, però per te Come una ziava ti chissi? Ma che è prozo, dici? Certo da un Si sente la mancanza del che ci Vazio Vazio del giugno perché lei capire più alta fare l'armadio un mese di un mese che parte non c'è fatto vedere 65 le fatte sei mesi ci ha fatto già fatto un anno non è fatta le fatte pesante le parti 65 ma che fa portiere l'ha già fatto in un mese di 60 45 dire l'ha già fatto ma come che ha fatto il portiere la storia che correva no oh, qui passa buh, no la finalizzazione non c'è un zero no, la finalizzazione non c'è un zero pure gli arrivano i cicli E nì, mamma mia, no, è mai sbagliato proprio, no, no, allora che lo devo modificare, è uscito un'altra volta, se non è possibile. Che palla di merda! Che fai? Bravo, con un letto. Vai, no, no! Sì, ma quanto è alto in gioco? Un po' accettuno, comunque. Ma non c'è l'audio, io non ne avevo domande la parola, il gioco. Il gioco è alto, 1,76, la parola che dici. Ma il gioco... Ah, nel gioco... Aspetta, è una vita reale. Nel gioco è alto, ma del 75. No, no, no! È alto. È alto. È molto importante, è alto. È alto, è alto. È alto, è alto. Alla 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 Oh, è vero, è vero, è vero Ma è vero, è vero Eh, sto provando a raclaccarlo Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Questo è il cielo del loro Oh, ti ne valla tutti, mi sembra fin dotti il loro goal E poi, mi vanta di quello Codo? Cazzo il tuo Cosa è il tuo? Questo Aspetta Non facciamo un cazzo No No Ma che cazzo fai? Fai, fai, fai Fai, fai Ma che cazzo fai? Fai, fai, fai Fai, fai Fai, fai 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 ma guarda la armati da te ne si dovevo tutti fanno a rinverlo a te ne c'è agilità ma come faccio? scusa non so se questo gioco si blocca cioè non è che è una gecromutix no 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 ma è colpa mia no 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 come si che si che movimento di schiera? che stessi che movimento di schiera capasso? non capisci che movimento di schiera capasso non capisci che movimento di trame no capisci facciamo scudate da sub un'armati si passa paronna un'altra è il URLO DEL SESSO! Che fai? Di quel senso vai, io le faccio l'urlo! Cosa va? Cosa va? Cosa va? Cosa va? Cosa va? Cosa va? Eccomi! Hai visto? Eccomi! Ma gioca bene dai, questo matole è buono! Però quando mi danno al diamante, andate giù o giù o giù! Oh, è giù! Qua, sai che conosco la persona che è tale e quale ha solo pazzo, giuro che ci provo a fare amicizia! Sì, c'è un bambino con l'Ukraine E' un giocatore molto tecnico ma qui ci faccio E' un po' strato diciamo, vedo l'agente che fa Uno E' un po' di uscire Ma che cazzo fa? Che passaggine? Ha chiesto pure scusi che non l'avate E' un po' di uscire Si ma... Scusate il vago e me la potevo stare Ma vabbè Sto andando a spiegare un'ottima Se il vago te la potevo stare Questa cosa mi fa Non sono E' un po' di uscire E' un po' di uscire E' e' un po' di uscire Un po' di uscire E' un po' di uscire Ma tu volevo riscire E' un po' di uscire C'è una serie al coppopunt per il cammino rum... C'è il tiro ce il tiro... Bravo! C'è tutto calcolato, vissi Che fa... Ma che stop è? Sì, è tutto calcolato, vissi? È tutto scalcolato? Vai, cori cori! Corri! Poi corri! Corri! Tum tuum, corri, turi tuum room tiriri tiriri Oh che tummelle che ci va vediamo room ma appoggiamo il pisello dentro room tiriri tiriri oh mannaggia riserva vai bravo auguri vai che lo prendo in ricore trovo ugualmente un batterio ricore però ma che palla marone ma che pensi di essere giusto quando è già stato nel giallo non lo so perché io sono il più bello di giallo ma sono giallo il mio primo di uomo se ne accosta quello che hai fatto a farla di fuori gioco mi ha abbiato il golo quando è giusto ma come cazzo corri? si è normale che stai vincendo questo giù le nostre gambo è lo gambo tocca 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 ciao tocca tocca peppo bu 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 su io abbi bu voi abbi Ti vedo nel gioco, lì, qua! Nella... Shro! Eh, vabbè! Quello è tesoro, lì! Voi me l'hai riduto! Eccomi! Ci sono! Dico, sono un po' il gioco! Però mi sono! Sì! Ripasta! Ripasta! Ah, era per te! Era, porco dio! Porcotello! È un bazzito! Che succede? Chiep! per tirano ma no, non vanno deviati ma non fanno un culo affare sempre la cantazione la cantazione è che hai chiuso, canti lì oh stai potendo a me o in che cazzo sei eh stronzo sei saluto buona tu quando una casa il rosso la capi sono pazzo la coppia d'attacco più forte del mondo ho capito che ho capito però che fa fatto 3 gol ho preso 2 di 5 poi continuava a guardarci domani facciamo l'interno ok facciamo grazie